Sì, sicuramente la partita di Bologna ha scritto una bella pagina all'interno della storia della Palacanistra Nardò, sicuramente era un qualcosa che ci voleva per il gruppo, per tutto l'ambiente, perché comunque è vero che siamo solo all'inizio, ma venivamo dalla vittoria di Livorno, poi la brutta partita, o meglio, giocata a Sprazia, vigevano, quindi avevamo bisogno tutti di un segnale di fiducia, un segnale di consapevolezza che la partita con la fortitudo ci ha dato, indipendentemente dal risultato finale, che poi è normale una gioia per tutti, però ci ha dato la consapevolezza che noi, se giochiamo in un determinato modo, possiamo essere competitivi contro chi vuole. Sì, però ti ripeto, siamo ancora all'inizio, sono passate solo sei giornate, quella la prossima sarà la settima, mancano ancora 34 partite, dopo quella di domenica 33, quindi ad oggi guardare la classifica onestamente lascia il tempo che trova. Brindisi sicuramente ha pagato gli infortuni che ha avuto, perché ad oggi, se non erro, non ha mai avuto la squadra al completo nelle prime sei partite, perché prima gli infortuni di De Vico, poi di Calzavara, poi di La Quintana, adesso Ogden e Vildera, sono tutti giocatori probabilmente di quintetto nelle loro rotazioni, quindi questo fa capire che Brindisi sta attraversando una crisi di risultati dovuta principalmente a questo motivo qui, al netto del fatto che comunque, nonostante gli infortuni, è riuscita nelle difficoltà a comunque trovare un certo tipo di equilibrio all'interno della sua squadra. Lo dimostra la partita che ha fatto l'ultima domenica, anzi lunedì, a Rieti, dove ha perso solo di un punto, giocando un'ottima partita, perché comunque, anche con gli infortuni, ha la capacità, alternando diversi quintetti, di essere pericolosa in più e più modi. Questa squadra si affronta avendo la capacità di reagire in base a quelli che loro mettono in campo, perché avendo, possono variare diversi quintetti, possono variare diversi uomini, possono giocare con un lungo, possono giocare senza lunghi, quindi quella, la nostra bravura deve essere quella nel riconoscere quali sono in quel momento, qual è in quel momento il loro quintetto e di conseguenza riuscire a capire, in maniera abbastanza rapida o più velocemente possibile, il modo giusto per poter colpire l'oro e cercare di portare a casa il risultato. Sì, esattamente, veniamo da una partita giocata bene, comunque da una settimana direttamente fatti bene, quindi siamo molto fiduciosi per la partita, secondo me sarà una bella partita. Vorrei dire che si affronta come una partita qualsiasi, però sappiamo tutti che questa partita, essendo un derby, quanto un po' di più, loro non sono stati molto fortunati con i fortuni, però comunque sono una squadra solida e bisogna prenderli sul serio. Abbiamo ritrovato un po' di fiducia in noi stessi e nelle cose che facciamo, però comunque continuiamo a lavorare duramente e le cose arriveranno. Ma non ci fa paura perché comunque il campionato è così, tutti si giocano contro le tutte. Sì, sarà un derby, però non ci fa paura. Devono vincere e noi dobbiamo vincere.